alessandra zinno direttore generale dell'autodromo di monza che onore presentare questa grandissima donna una delle poche l'unica l'autodromo di monza è guidato da una donna non è così come ci sei arrivata fino qui alessandra grazie grazie per la domanda allora arrivo qui per la passione intanto per la sfida perché questa è una grande sfida inutile dirlo e anche la voglia come dire di fare qualcosa di se possibile eccellente l'autodromo ha una storia l'autodromo è un'icona e oggi ci troviamo qui perché ritengo che sia e debba anzi essere ancor di più un istituzione quindi un simbolo dove si parla di motosport si parla di corse si parla di donne ma si parla anche di aspetti se volete sociale di inclusività di attenzione alla differenza perché secondo me la differenza è un valore e lo è sia in termini di rapporto uomo donna che in termini di sostenibilità noi lavoriamo molto anche su questo lavoriamo sulla capacità di poter ospitare far arrivare anche il mondo della della disabilità perché no noi vogliamo essere un sistema aperto vogliamo che le persone quando vengono qui si divertano e apprezzino quello che di bello c'è qui la storia il parco l'idea della sfida l'idea della velocità e quindi sono un po le nostre il nostro sistema di valori che vogliamo riportare in questo grande circuito quest'anno facciamo 100 anni e vogliamo consegnare ai secondi 100 anni un autodromo moderno e che parli a tutti tenuto conto che c'è una storia importante la storia sono le radici e le radici servono per far crescere la pianta io sono di parte perché abitando due passi dell'autodromo di monza per me è meraviglioso il più bello il mondo poi in questo parco in questo contesto e oggi oggi si tinge di rosa perché guardate un po qui dietro il circuito fa delle strane curve in queste curve c'è una parola woman quali sono le iniziative quindi alessandra verso verso l'universo anche femminile le donne si stanno accostando sempre di più al mondo delle corse e lo fanno non solo negli aspetti amministrativi all'interno dei team all'interno quindi dei ruoli tecnici ma lo vogliono fare anche da protagoniste quindi da piloti stanno aumentando il numero di richieste di iscrizione per le licenze di corsa noi vogliamo e perseguiamo la possibilità che durante le nostre gare ci sia sempre un maggior numero di iscritte all'interno della nostra azienda le donne sono direi quasi la gran parte e ricoprono ruoli importanti ruoli di responsabilità credo che la donna abbia una sensibilità rispetto a quello che possono essere difficoltà e capacità di coniugare le criticità con le opportunità e questa è anche un po' la nostra politica è una politica che guarda alla qualità e laddove ecco la differenza deve diventare un tratto distintivo in termini positivi e non in termini negativi mi viene naturale farti questa domanda tu sei scesa in pista, hai provato l'alta velocità qui a Monza? grazie, sì l'ho provata, l'ho provata in diversi momenti e in diversi contesti l'ho provata sia con piloti professionisti in auto, in assetto da corsa e ovviamente i miei collaboratori pensavano che scendessi un po' in pallidita dall'aver sfiorato i 300 km orari invece devo dire che è stata un'ebbrezza direi eccitante l'ho provata, ho avuto l'onore di provarla con Miki Biasion durante l'ultimo rally mondiale era qui con noi ospite e quindi ho provato la delicatezza diciamo se possibile per un pilota di rally campione come lui l'armonia e la delicatezza di un tratto durante la sua guida che mi è rimasta veramente impressa grazie Alessandra e in bocca al lupo all'autodromo di Monza che sia un'evoluzione che sia un'evoluzione che sia un'evoluzione che sia un'evoluzione mi è vue a mi è mi è me Grazie a tutti.